Continua il percorso in favore del tessuto imprenditoriale nisseno attraverso nuovi bandi volti al sostegno finanziario delle micro, piccole e medie imprese che intendono affrontare nuovi percorsi di attività aziendale per gestire, innovare, ampliare e diversificare il proprio core business. Questo è l'obiettivo che la Camera di Commercio di Caltanissetta realizza con la promozione di una serie di bandi volti alla concessione di contributi e voucher a tutte quelle imprese partecipanti e rientranti nei requisiti previsti per ciascuno di essi. Sarà possibile aderire e presentare la domanda di partecipazione a partire da domani 4 novembre 2022. I bandi a disposizione, come recita la nota della Camera di Commercio di Caltanissetta, sono il bando Vaucere Digital I4.0, il bando per la prevenzione delle crisi di imprese e il supporto finanziario e il bando formazione di lavoro. Per ulteriori informazioni inoltre, la Camera di Commercio nisseno invita tutti gli imprenditori e parte interessata a partecipare a prenotare un appuntamento gratuito. La richiesta potrà essere inoltrata attraverso una mail oppure tramite la pagina facebook.impresadigitalepidcaltanissetta.